Ho fatto questo passaggio con i ragazzi, adesso abbiamo ancora due partite, Olbi e Molese e dobbiamo essere ancora opprimi o secondi alla fine di questo trenino. Questo è il mio passaggio e i calcoli che stiamo facendo. L'Olbi è una squadra che viene dagli ultimi quattro pareggi, aveva perso in casa una gara e rimonta con il Siena subendo un gol nel minuto di recupero, dopodiché ha fatto 3-0-0 un 1-1. Squadra molto equilibrata, squadra che è abituata a fare questi campionati dove l'equilibrio e la continuità gli permette di poi finire con l'obiettivo che hanno in testa e quindi sarà una squadra che oggi, proprio per questa serie di continuità di risultati, invece io mi aspetto venga e possa rischiare qualcosa in più. Sarà difficilissimo a livello emotivo perché loro hanno un ambiente a favore e un ambiente dove ci sarà la ricerca dei punti per la salvezza. Sarà difficile essere competitivi, però noi abbiamo gli strumenti giusti per risolvere questi problemi. L'obiettivo è arrivare primi o secondi alla fine di queste due partite. Se abbiamo visto che arrivare primi in queste ultime due è stato fatto con 3 punti su 6, dobbiamo solo pensare a fare quei calcoli lì. Quando hai un obiettivo e mancano poche partite, non c'entra niente la trasferta, i numeri statistiche diciamo. È evidente che fare i punti in trasferta in questo momento della stagione vale doppio.